Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Paola Marella, celebre architetta e conduttrice televisiva, si è spenta all'età di 61 anni, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan. Nota soprattutto per le trasmissioni Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente su Real Time, Marella era diventata un'icona della televisione. Grazie al suo stile unico e alla sua capacità di aiutare le persone a trovare la casa dei sogni. Solo quattro giorni prima della sua scomparsa, Marella aveva pubblicato un ultimo video sui social, continuando a mantenere il legame affettuoso con il suo pubblico. Nel video si mostrava sorridente e piena di vita, segno che la sua passione per la comunicazione non si era mai spenta. Uno degli aspetti più affascinanti di Paola Marella era la sua abilità di fondere la competenza professionale con una personalità calda e coinvolgente. La nota conduttrice sembra serena e in grande forma, perciò nessuno poteva aspettarsi questo triste epilogo. La sua improvvisa dipartita lascia un grande vuoto nel mondo della televisione e dell'architettura, ma il suo lascito continua a vivere attraverso il lavoro che ha fatto e l'impronta che ha lasciato nelle vite di chi l'ha seguita e apprezzata.